Buongiorno e benvenuti e ben svegliati. Parliamo di ambiente to cure, lo facciamo con Andrea Cristani che è il direttore dell'Unione Veneta Bonifiche. Lei è qui perché a cavallo dei due settimane di fuoco per l'Unione Veneta Bonifiche è in corso la settimana dell'ambiente in Fiera a Padova, tradizionale appuntamento in cui si evidenziano i lavori fatti per diffondere la cultura della salvaguardia del territorio rispetto dell'acqua, rispetto dell'aria, rispetto del suolo e un settimana dell'ambiente a voi molto cara perché sono coinvolti i ragazzini delle scuole di ogni ordine grado. Proprio lei mi diceva prima fuori onda i lavori che poi avremo modo anche di vedere nel corso dei nostri telegiornali, anche di nostri approfondimenti, i lavori che fanno questi bambini, questi ragazzini che sono dei capolavori di comunicazione. Che cosa hanno i bambini, i ragazzini che riescono a comunicare con immediatezza? Qual è il linguaggio che poi è il linguaggio che voi in qualche modo copiate per trasporlo nella vostra campagna di comunicazione? Sì, proprio stamattina si è tenuto un evento importantissimo che è quello della chiusura di questo percorso didattico che abbiamo fatto con le scuole. Abbiamo presentato i lavori dei ragazzi, sono laboratori multimediali fatti appunto proprio con i ragazzi, quindi abbiamo fatto sì che i ragazzi, i studenti delle elementari e medie, imparassero ad usare anche un po' la tecnologia e attraverso il loro linguaggio hanno prodotto un risultato, quindi cartelloni pubblicitari, fotoromanzi dove loro stessi si sono fotografati, si sono fatti parlare attraverso la vignetta, hanno realizzato attraverso le videocamere degli spot televisivi e delle immagini che poi montate in realtà sono diventate una specie di TG, di notizie. In realtà la bellezza che abbiamo messo in campo è proprio il modo che hanno loro di vedere le cose. Siccome il progetto era acqua, territorio e ambiente, questo percorso che dovevano fare la scoperta del loro territorio attraverso l'acqua, in realtà hanno un linguaggio che è molto semplice, capibile e attraverso il loro linguaggio forse dovremmo imparare anche a vedere il territorio, quello che non abbiamo mai fatto o fatto poco in questi ultimi decenni, invece di vedere un territorio con gli occhi di chi lo vuole libero dal cemento, che lo vuole per che l'acqua scorra naturalmente, perché vuole un ambiente, perché gli animali devono vivere, come lo vedono gli occhi di un bambino, e in realtà l'abbiamo visto invece come una cosa da sfruttare e questo sfruttamento ci ha portato poi alle contraddizioni che viviamo tutti i giorni. Tornando proprio a questi lavori dei bambini, lei diceva hanno realizzato una specie di TG, nel telegiornale si sottolineano le cose che non vanno, le cose che si vorrebbero. Lei un po' ci ha anticipato i temi toccati dai bambini, il fatto di una minore cementificazione, spazi liberi, l'acqua che possa scorrere tranquilla e al di là di questo ci sono emerse delle preoccupazioni, parliamo di un territorio anche in vari punti alluvionato, questi bambini come hanno vissuto questi eventi e che messaggio lanciano agli adulti nei loro prodotti? In realtà se noi guardiamo i prodotti dei bambini troviamo pochissimi, al di là di aver evidenziato qualche situazione, ne troviamo poche espressioni negative, i bambini li vedono con occhi diversi e il messaggio è sempre positivo e questo ci dovrebbe insegnare molto. Quindi loro si percepiscono, al di là che le scuole che sono state coinvolte, per loro fortuna non avevano vissuto in gran parte eventi di calamità naturali se non nell'area del Padovano nel 2010 e quindi ricordavano appunto di fatti un video che avevano realizzato loro, un video era un prodotto fotografico, avevano messo appunto un territorio che pian piano si riempiva di case e immediatamente l'acqua che le sommergeva e quindi col pericolo proprio dell'alluvione. E su questo però incentravano tutta la loro comunicazione su cosa fare, su come vorrebbero il territorio, su come in realtà l'ambiente in cui ricercono. Gli suggeriscono le risposte? E quali sono le risposte che suggeriscono i bambini? Beh, non le suggeriscono solo i bambini, purtroppo le risposte che collimano esattamente poi con quelle che oggi sono... Ma vuol dire che loro hanno un'immediata percezione del pericolo e di cosa c'è da fare? Hanno un'immediata percezione perché anche dei loro semplici disegni, quando ci hanno fatto capire, nel momento in cui gli abbiamo spiegato quello che potrebbe essere il disco idraulico, l'hanno tradotto in un bicchiere che si riempie con una caraffa e che tracima e allaga la tavola. E quindi questo fa capire come da una cosa molto semplice, ma in realtà se la trasferiamo su una scala più ampia e dimensionale, in realtà è un bel canale, costruito anni fa su un territorio che lo poteva ospitare, in realtà oggi circondato da tutta una serie di situazioni come il cemento, non ha più lo spazio, non ha più lo spazio e quindi è un territorio che non è più in grado, se non viene modificato dall'uomo in termini positivi, dare delle risposte a chi ci vive in termini di sicurezza idraulica, in modo particolare. Spostiamoci agli adulti. La settimana dell'ambiente può essere vista come altre iniziative di comunicazione, come un modo autoreferenziale per quelle che sono le realtà coinvolte nella salvaguardia del dissesto idrogeologico. Alcuno potrebbe dire invece che spendere soldi in queste iniziative perché non fanno i lavori infrastrutturali, le casse di espansione, eccetera, eccetera. Quanto è importante la comunicazione per creare una coscienza civile? Quanto sono importanti questi passaggi teorici, chiamiamoli così, nel momento poi del bisogno? Quanto poi essere informati significa nel momento che si verifica, non diciamo degli alluvioni, ma degli allargamenti che purtroppo sono frequenti, insomma l'ultimo mi pare che risalga 20 giorni fa, sia importante anche per correllarsi con la protezione civile, sapere chi bisogna chiamare e soprattutto quanto invece è stato importante per ridare valore al ruolo dei consorzi di bonifica? È la domanda che le faccio sempre, che in passato erano stati identificati come enti superflui e ancora oggi se ne parla in questi termini e magari si confonde quello che può essere un accorpamento delle strutture con la struttura in sé per sé, insomma. Cioè la comunicazione è stata per noi un elemento decisivo negli ultimi anni, proprio per avere un contatto diretto con chi sono poi i cittadini, gli abitanti di un territorio, anche per far conoscere un qualcosa, perché molto spesso si dice appunto che i cittadini non conoscono l'attività dei consorzi, però è altrettanto vero che tutti i sistemi istituzionali che lavorano su un territorio hanno costruito quel rapporto con i cittadini per creare una cultura del territorio. Questo perché se noi lo osserviamo oggi, dopo 20 anni o meglio negli ultimi 10 anni, dopo aver consumato negli ultimi 10 anni, quindi non 30 anni fa, negli ultimi 10, 4.500 metri di terreno ogni anno e stiamo proseguendo ancora, abbiamo perso totalmente, hanno perso i cittadini la cultura del loro ambiente dove vivono e quindi non si preoccupano come costruiscono la loro casa, non si preoccupano di cementificare, se c'è una pista ciclabile, dicono benissimo una pista ciclabile, ma non si preoccupano che abbiamo chiuso totalmente un fosso che poi farà inondare la sua casa. Piste ciclabili non sono un po' un controsenso, perché lei sta dicendo una cosa che fino a qualche tempo fa non sarebbe stata permessa, nel senso che si gridava la pista ciclabile come l'alternativa al ritorno alla bellezza della natura, come il ritorno a forme ecologiste. La pista ciclabile è la massima espressione dell'ecologia, dimenticando appunto che la pista ciclabile spesso non è uno sterrato in mezzo ai campi, ma è un percorso cementificato. Certo, ma non solo cementificato, intanto le pista ciclabili soprattutto nelle città sono state fatte solo per salvare i cittadini che camminano dalle macchine, quindi non tanto per un aspetto ambientalista, ma soprattutto hanno completamente chiuso tutte le vie di fuga dell'acqua dei centri cittadini, perché tutti i canali e scoli che sono lungo le strade avevano un servizio e hanno ancora un servizio, che è quello di far sì che le parti cementificali delle strade scolino l'acqua naturale e raccolgano le acque dai centri urbani e dall'area edificata. Se questo non viene fatto, l'acqua non trova più spazio e trova il primo punto più basso che è il garage delle case, le fognature sicuramente non hanno più lo sfogo, i primi sottopassi che trova l'acqua li riempie, cioè quindi è un territorio che non ha più via di fuga, l'acqua non ha più spazio ed è un elemento che discuteremo la prossima settimana. Infatti, perché la prossima settimana è la settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione. Ma torniamo al concetto delle piste ciclabili, perché secondo me riesce anche a dare un'immagine immediata dei controsensi che ci caratterizzano. Che non è solo la pista ciclabile, quando dicevamo di cultura, noi abbiamo chiuso tutti gli invasi naturali e nelle aree dove abbiamo costruito le nostre case, perché erano i mezzi campi, c'erano dei corsi d'acqua, li abbiamo chiusi completamente e abbiamo chiuso anche gli ultimi facendo le piste ciclabili. Nelle campagne gli agricoltori hanno chiuso tutti i canali e hanno tenuto quelli più grandi, facendo cosa? Diminuendo drasticamente i volumi di invaso. Quindi quando piove l'acqua non ha più il suo invaso naturale, un corso che pian piano dal piccolo fino al grande lo porta al fiume e quindi allaga. Ed è quello che è successo anche negli ultimi periodi. Però lei dice abbiamo, abbiamo, abbiamo. Allora, probabilmente il cittadino che acquista una casa in un'area di invaso magari non lo sa. È giustificato il fatto che non lo sa? Ah, magari parliamo delle istituzioni che hanno autorizzato a opere di urbanizzazione laddove c'era un campo. Parliamo degli agricoltori che probabilmente hanno venduto i terreni trasformandoli, non loro, in edificabili. Perché poi alla fine il cittadino che acquista la casa nell'invaso e non è consapevole al primo allagamento dice, ecco se lo sapevo. E poi non è che manchino le case, credo, nel nostro territorio. Sì, sì, ma non trovo giustificazioni. Perché noi siamo molto... E allora, ma perché sei costruito nell'invaso? Perché costa poco? Perché dovevamo centri... Cioè? No, io continuo a sostenere che la pianificazione, che è fatta di tre livelli, da quello comunale, provinciale e regionale, pianificazione vuol dire, insomma, i piani urbanistici, in realtà hanno fallito. Perché se hanno prodotto questo, vuol dire che hanno fallito. Seppur questo è stato anche una conseguenza della crescita del nord-est, e quello possiamo metterlo sul piatto della bilancia rispetto... Oggi abbiamo un invenduto, abbiamo capannoni da dismettere. Però non posso pensare che un cittadino, che è un cittadino che oggi si preoccupa, oggi, non dieci anni fa, oggi, dopo le alluvioni, ancora oggi, si preoccupa che la casa sia in classe A, in tripla classe, che sia ecologica, la costruisci in legno e non si preoccupa dove la costruisci, non posso considerare che la colpa sia del geometra o di chi gli ha messo l'area edificabile lì. Il cittadino costruisce la sua casa, spende i suoi soldi o la compra. Cioè, non può non sapere oggi... E come fa a sapere l'area? Come lo arguisce? Lei ce l'ha detto varie volte. Come faccio a sapere se sono in una zona di invaso, che poi adesso per fare le casse di espansione, paradossalmente, ci sono gli espropri. Sì, le casse di espansione hanno tutto un altro concetto, perché là si costruiscono dei veri e propri laghi e quindi non parliamo di via Palù o di via Basse o di Fontane. Già il nome della via dovrebbe lasciare un po'... Come per esempio gli ultimi allagamenti successi a febbraio di quest'anno, quando poi a seguito del termine dell'evento calamitoso abbiamo avuto l'innalzamento delle falde che allagava continuamente le case. Tipica frazione di Villorba di Treviso, Fontane, si chiama Fontane, non può non esserci una fontana, lì è un'area di risorgiva e l'acqua ha continuato a venire su, probabilmente si arriva a 20 anni, 30, 40, 50 anni fa. Cioè, ci sono delle situazioni dove chi ha costruito sapeva esattamente il problema, ma che non c'era nessun problema, perché non ci siamo negli ultimi 50 anni confrontati con eventi calamitosi particolari. Però dico, non è un problema di 50 anni fa, ormai quello che è fatto è fatto. Però ma grosso che ancora oggi si persegue questo e se nel 2010 non c'è momento in cui si continua a predicare, perché poi se abbiamo di predicatori ormai va bene, di queste difficoltà e questi pericoli. E non si capisce ancora questo, ma gli stessi amministratori continuano in perterriti a presentare documenti di programmazione che non tengono conto realmente di piani urbanistiche. Ecco, perché capisco che non si possono demolire le case esistenti. Probabilmente sul piatto della bilancia, della convenienza, o meglio, dell'interesse, va bene, che è quello dell'area edificabile, di chi la vende, di chi la compra. Ma ancora oggi c'è un interesse? Ancora oggi quel poco che si costruisce probabilmente si fa ancora senza tener conto in maniera dettagliata, però dobbiamo tornare, noi continuiamo a sostenere, e lo diciamo in tutti i momenti di confronto con i cittadini, dobbiamo cominciare a tornare indietro. Come si fa appunto a ritornare indietro da questo consumo selvaggio del suolo? Allora, bisogna intanto all'interno delle aree edificate e quindi le aree private e dove ha competenze il comune, bisogna ricreare tutta la capacità di invaso. Quindi come? Bisogna dire tutto ciò che c'è di possibilità che l'acqua venga contenuta, quindi la pulizia delle scoline, la pulizia dei fossati. Qualcuno non se ne accorge che magari dietro caso in un'area edificabile c'è un qualcosa, che magari è del comune e non può aditare a nessun altro, però nessuno neanche più sfalcia quel metro di erba che ha davanti la casa. Cioè abbiamo perso, aspettiamo sempre che qualcuno faccia senza preoccuparci che dopo qualcosa ci verrà addosso se capita l'emergenza. Allora, recuperare per tutti una coscienza di tener pulito e di guardare se quella scolina che abbiamo dietro casa, pian piano l'abbiamo anche noi, abbiamo contributo a che si chiuda perché non l'abbiamo mai pulita. In realtà quando piove l'acqua va prima lì della mia casa. Allora, ricreare tutta la capacità di invaso all'interno delle aree edificabili, compreso anche recuperare delle piccole casse di espansione, le rotatorie, tutto quello che un comune può mettere in campo. Cioè la rotatoria come può funzionare? La rotatoria al centro invece di avere un bel giardino in cemento per avere un buco per contenere l'acqua. Però purtroppo costruiamo le montagne, facciamo le rotatorie con le montagne e ci piantiamo le vitti dove serve, piantiamo l'olivo, piantiamo l'immagine del comune, però in realtà forse quel buco lì dove ha tutto cemento attorno potrebbe contenere almeno un po' di acqua. E sarebbe costoso adesso perché ovviamente magari tanti hanno costruito la scultura in cemento dove c'è la rotatoria perché così è più bello il comune. Secondo lei, tornando a questo concetto di riappropriarsi del suolo, diventa costoso appunto togliere questo cemento, rimettere la terra e farci uno sfogo in mezzo? Delle azioni di prevenzione, un euro speso in prevenzione sono 5 euro di danni pagati. Allora se questo è logico che se non si inizia mai si arriverà a avere quel beneficio dell'euro rispetto al pinto. Ma come si può iniziare? Secondo lei ci vuole un decreto legge perché poi vuol dire anche occupazione perché in un momento in cui noi come a un tempo consideravamo la cementificazione, la panacea per l'economia nazionale, le cosiddette grandi opere, oggi il vero business potrebbe essere nelle opere, micro opere, macro opere di gestione del suolo. Perché non si avvia appunto un programma di questo tipo che potrebbe anche dare e sviluppare occupazione? Noi auspichiamo che ci sia la sensibilità come peraltro sembra ci sia perché c'è la... Ci sono delle avvisaglie di questa... Ci sono a livello nazionale, l'indicazione esiste già che è quella di finanziare un grande piano sul dissetto geologico e capiamo che se a livello italiano in altre regioni ci sono delle situazioni di dissetto geologico molto più devastanti rispetto a quelle del Veneto, il Veneto però non può sottovalutare questo perché siamo la regione più a rischio idrogeologico d'Italia, la dico più perché non abbiamo grandi disseti o abusivismi, però in realtà... Abbiamo un'antropizzazione intensiva. Però è un territorio che è particolarmente delicato e fragile, basta solo pensare al dato che usiamo molto spesso, in quella fascia di 200 mila ettari che va da Caorle fino al delta del Po, passando sotto Padova, quel piccolo cattino lì, quindi sono 200 mila ettari su un milione e otto dell'intero Veneto, quindi cos'è? Un decimo. Un decimo, ecco, vabbè. Però ha un suo significato. Sì, però lì dentro sono posizionati 400 impianti idrovori che sollevano l'acqua e ne esistono 700 in tutta Italia. Ora, bisogna capire che se più del 50% degli impianti idrovori è posizionato su una fetta di Veneto, rispetto a tutta l'Italia, ci sarà un motivo. Quindi il Veneto è più dell'Olanda da questo punto di vista. Il problema è che in quella fetta lì, quella fettina di Veneto, abbiamo costruito il 32%, 70 mila ettari circa, di cemento. E non bisognava costruire nulla? Tecnicamente qualcuno l'ha bonificato all'epoca della Serenissima, ha reso coltivati e fertili di cui terreni, e probabilmente dovevano essere lasciati i cotali. E abbiamo costruito le città, ma non solo le città, abbiamo costruito un'urbanizzazione talmente diffusa che ha praticamente rotto tutti i reticoli idraulici. Quindi è un miracolo che non abbiamo queste 400 pompe idrovore? Le abbiamo perché siamo in questo territorio? Perché è necessario. Perché è necessario. È necessario per il Veneto o è necessario per tutta l'Italia? No, è necessario per il Veneto. Il Veneto ha tanta acqua che va in quel catino, che viene da Monta attraverso tutti i fiumi che vanno a mare, che se non ha gli impianti idrovori lo allaga nel giro di qualche giorno. Torniamo tra un paio di minuti e capiamo perché ha senso che i consorsi di bonifica continuino a gestire questi impianti idrovori. Torniamo tra un paio di minuti. Grazie. Siamo tornati in studio con noi in questa prima parte di Il Stato in Punto. Questa mattina c'è Andrea Crestani, direttore dell'Unione Veneta Bonifiche. Parliamo di consumo del suolo e di salvaguardia del territorio. Ci stava dicendo che il Veneto è praticamente sotto acqua se non avesse le 400 pompe idrovore che gestite voi come Unione Veneta Bonifiche e quindi vari consorsi di bonifica perché è una specie di catino dove arriva tutto. Quindi siamo anche fortunati ad avere questi impianti. Quasi a voler sottolineare che, ripeto, spesso e volentieri il consorzio di bonifica viene additato forse perché non si conosce, anche il cittadino magari non ama pagare la bolletta bimensile, adesso non so come sia bimestrale, ma poi alla resa dei conti se non ci fossero queste pompe idrovore sarebbero davvero danni. Però la settimana delle bonifiche e dell'irrigazione che inizia il 17 e il 25 maggio ha proprio questo tema di sensibilizzazione. La terra chiede aria, l'acqua cerca spazio. Il che vuol dire che c'è stata troppa cementificazione. Qui abbiamo proprio nel vostro cartellone i grattacieli e le strade. Però queste cose esistono. Come si fa a ritornare a dare aria alla terra e a dare spazio all'acqua? Non è che si possono abbattere le costruzioni? No, è molto difficile. Bisogna partire sempre nel capire perché l'abbiamo fatto. E abbiamo fatto, come dicevo prima, perché abbiamo perso la cultura del territorio. E quindi io ritengo che l'informazione e il cambiare atteggiamento e quindi informare i cittadini affinché possano prendere coscienza di come si gestisce un territorio, già questo sarebbe importante per cominciare a fermare la ruota e farla girare dall'altra parte. Logico che non possiamo abbattere i palazzi, non possiamo chiudere le strade, non possiamo togliere le ferrovie o le autostrade. Bisogna correre ai ripari, perché come si diceva prima, se il Veneto è così, non è perché sia stato... perché il primo posto in Europa dove è nato il magistrato Leacqua è stato Venezia, all'epoca del Serenissimo. È una morfologia. È una morfologia del territorio, è una cultura che è nata qua, che però negli ultimi 50 anni, o meglio dal 60 in poi, l'abbiamo persa molto, perché fino a quei momenti il Veneto era ancora un Veneto molto attento alla parte idraulica, si è costruito grandi opere, opere di tutti i generi, abbiamo tenuto in manutenzione, costruiti impianti idrovoli, i canali erano proporzionati. Quanto ha inciso la crisi del settore primario di 20 anni fa? Perché oggi il settore primario è un po' in rilancio, però c'è stato un periodo, credo che sia durato abbastanza a lungo in cui il settore primario si andava tutti a lavorare in fabbrica o negli uffici. Inevitabile, abbiamo costruito e disseminato aree industriali e artigianali in tutti i comuni, cioè ogni comune da 3.000 abitanti ha la sua aree artigianale e industriale, magari ci sono 10 cappaloni sfitti e 2 utilizzati oggi per la crisi che ormai tutti tocchiamo, però tecnicamente il territorio l'abbiamo disseminato frutto di questo sogno di espansione, però non l'abbiamo attentamente governata, noi di fatti chiediamo anche ai comuni, agli enti di fermare l'urbanizzazione non governata, perché l'urbanizzazione non governata non guarda il proprio confine territoriale di un comune, ma deve essere visto in un ambito di scala più ampia, sì, c'era la programmazione provinciale, che in realtà è stata una somma dei piani dei comuni e poi c'è quella regionale che è una somma di quelli provinciali, in realtà dal basso abbiamo sbagliato la programmazione. Oggi è possibile che questa programmazione, anche alla luce del fatto che molte strutture sono, parlo dei capannoni, sono disabitate, magari sono anche, non dico in perfette condizioni, cioè questa sbagliata cultura che abbiamo in Italia del non abbattere nulla, che pare che sia tutto tutelato dalla sovrintendenza, credo che nel caso di un capannone si può ritornare secondo lei ad una programmazione che prevede anche l'abbattimento e il recupero ad aria verde di aree che sono state cementificate e che oggi necessariamente non servono più? No, sarà, penso, difficile, le norme regionali ci stanno provando, perché dando dei creti di lizi con la possibilità di spostarle in aree non a rischio idrogeologico, quindi la possibilità di ridurre il carico volumetrico sulle aree a rischio spostandoli in altre aree. È inevitabile che questo è un processo sicuramente molto lungo, nel frattempo dovremmo comunque mettere in sicurezza il Veneto e questa è una delle richieste che sta facendo la Regione e il Governo. Quali le opere per mettere in sicurezza immediata che si possono fare nel giro di qualche anno? Lei diceva come coscienza civica pulire tutte le valvole di sfogo dell'acqua e anche a questo punto cercare di lasciare più spazio possibile, quindi alberi all'aria, però in questa settimana nazionale della bonifica avete apertura e visite guidate agli impianti idrovori per creare la sensibilità, semplicemente per sottolineare che ci sono 400 pompe che altrimenti saremmo tutti sotto acqua. Almeno sapere cosa servono. Ecco, almeno sapere cosa servono che non è un vostro vezzo. Concorsi per le scuole perché abbiamo capito che partendo dal basso magari le nuove generazioni possono dire no, io voglio una casa più piccola ma voglio un po' più di aria, aria e acqua intorno a me. Poi simulazione addirittura di alluvione e difesa del territorio, questo perché? Perché in realtà con la protezione civile si fanno iniziative perché si cerca di mettere a conoscenza anche dei cittadini di come può avvenire un'emergenza. Di cosa può succedere? Sì, può succedere perché molto spesso, facciamo solo un piccolo esempio, quello dei 15 giorni fa, nella bassa padovana, se i nostri consorsi riferiscono nel momento in cui è arrivata la comunicazione della protezione civile, ma non solo, che c'era un'emergenza idraulica nel fine settimana, i nostri consorsi hanno immediatamente, c'è una procedura, cominciato a svasare tutti i canali, quindi vuol dire svuotarli dall'acqua e tenerli liberi nel caso in cui avvenisse un evento meteorologico. Ma i canali erano pieni perché l'irrigazione era in pieno svolgimento, quindi avevamo i canali perché si chiedeva acqua per le campagne, perché c'era un periodo di 10-15 giorni di siccità e necessitava per l'emergenza delle piante e immediatamente succede un evento calamitoso del genere. In realtà i cittadini si sono trovati, come tutti, così come gli agricoltori, così come i consorsi di fronte a un'emergenza che capita nell'arco di tre ore. Un diluvio. Allora che cosa bisognerebbe fare per avere un corretto comportamento? Il corretto comportamento è stare molto attenti alle indicazioni che danno i comuni, perché poi sono i comuni che danno... Quindi gli agricoltori devono procedere a svuotare... No, ci pensano i consorsi, a svuotare giustamente... Che cosa dovrebbe fare il cittadino? Il cittadino deve essere molto attento e non preoccuparsi, perché poi succede il fatto dell'emergenza, non preoccuparsi perché a volte chi deve dare l'ordine, sapendo che c'è un'emergenza a rischio, lo dà, poi dopo non succede niente, si arrabbiano tutti perché la protezione civile ha dato l'ordine. La protezione civile magari va tentendo un po' a dare l'ordine, capita un qualcosa, si accusa la protezione civile. Adesso la protezione civile è sotto accusa perché sarebbe stato dato per tempo... Però cosa succede? Succede che chi deve dare l'ordine, in questi casi, proprio sottoposto a queste pressioni, rischia di dare emergenze e ordini di evacuazione ad ogni temporale. Perché poi se qualcosa succede... Quindi a lupo a lupo qualcuno non risponde. Allora bisogna ritornare un po' con la razionalità e collaborare. I cittadini devono collaborare. Per esempio oggi presenteranno alla settimana dell'ambiente l'autorità di Bacino dell'Alto Adriatico, l'ente di pianificazione superiore che governerebbe tutta la situazione idraulica del nord Italia, per noi dell'Alto Adriatico, presenteranno un'app per i cittadini per suggerire, non suggerire, per dare le allerte e quindi segnalare le emergenze. Cosa vuol dire? Che attraverso un'applicazione i centri polifunzionali, le emergenze, i consorsi, cioè chi interviene potrebbe avere delle segnalazioni dai cittadini sulle varie emergenze. Attenti che qua il fiume sta salendo, cioè quindi ognuno collabora in maniera attiva... Delle reali. Perfetto, delle sentinelle attive sul territorio per qualsiasi tipo di emergenza. Questo è studiato per l'emergenza idraulica. Questo è uno studio fatto in Inghilterra come applicazione che dovrebbe coinvolgere i cittadini su qualsiasi emergenza, dall'evento allo stadio fino alla manifestazione. Insomma la tecnologia può dare una grossa mano in tempi di crisi... La tecnologia però mette nelle condizioni il cittadino di essere coinvolto, perché se non è coinvolto non partecipa attivamente a questo e pensa di subire a volte l'ordine di evacuazione e a volte l'allagamento nel caso in cui capita. Invece in quel momento lì capisco che tutti ci danno una mano. No, bisogna essere attori lucidi. Però io dico, e qua torniamo alle proposte che noi continuiamo a fare, nel tempo di guerra, così come chiama la protezione civile, si va in emergenza. Nel tempo di pace si si organizza. Allora, nei tempi di pace, quando non abbiamo un'emergenza in corso... Insomma, c'è un'unica parola che è sempre la stessa, prevenzione, ma prevenzione reale. E soprattutto cominciare a prendere coscienza reale di quelle che sono le problematiche che ha il territorio in cui uno vive, perché così si può regolare. E cambia la cultura, cambiando la cultura... Basta, e con questo devo salutare Andrea Crestani, basta ricordarsi sempre che ci sono 400 pompe idrovore, impianti idrovori, al servizio del Veneto per evitare che possa allagarsi. 400 è un numero che già la dice lunga sulla situazione di delicatezza del nostro territorio. Io ringrazio Andrea Crestani, direttore dell'Unione Veneta Bonifiche. Settimana dell'ambiente che sta concludendosi, ma dal 17 al 25 maggio, settimana nazionale della bonifica per dare aria alla terra e spazio all'acqua. Torniamo subito dopo la pubblicità con un altro ospite, un altro argomento. Grazie.